Il mare dà prova della sua forza e chi abita a Tortora sa bene che il tallone d'Achille del lungomare Sirimarco è il tratto di via Giovanni XXIII. Da sempre in quel punto i marosi devastano strada e abitazioni. Tra il 28 e il 29 dicembre la mareggiata ha lasciato le sue tracce. Con una lettera inviata al Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria, all'Autorità di Bacino, alla Prefettura di Cosenza e alla Protezione Civile, il Sindaco Pasquale Lamboi ha rinnovato la richiesta di idonei interventi di protezione in mare al fine di limitare gli effetti negativi degli eventi calamitosi e proteggere sia le abitazioni che le infrastrutture pubbliche e private che si trovano in prossimità del litorale e degli argini fluviali. Fatto sta che già il 10 novembre dello scorso anno il Comune di Tortora ha inviato agli enti preposti un corposo progetto preliminare di interventi di difesa del litorale, grazie al quale sono stati aggiornati anche i dati sull'andamento dell'erosione. Il 13 novembre 2017 l'Aggiunta Comunale ha poi approvato questo progetto che prevede lavori di risanamento per un totale di 2 milioni e 600 mila euro. Da questo è stato estrapolato un mini progetto riguardante interventi sul fiume Noce che potrebbe essere finanziato dalla Regione Calabria con 500 mila euro. Alla luce del nuovo studio effettuato dal Comune di Tortora, il sindaco Pasquale Lamboia ha anche richiesto l'aggiornamento del masterplan erosione costiera della Regione Calabria con i risultati conseguiti e l'inserimento del progetto allegato nel sistema RENDIS, il repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo. L'unica cosa che potrebbe rallentare le opere di risanamento è la burocrazia. Infatti la relazione generale riguardante gli interventi in difesa del litorale redatta nel gennaio 2017 è anche una dettagliata cronistoria sia dei lavori effettuati negli scorsi anni sia dei lavori che ancora tendono di essere finanziati dalla Regione Calabria nonostante la situazione del Comune di Tortora sia abbastanza seria. Dal 2000 l'ente guidato da Lamboia attende che il problema venga risolto definitivamente. Finora solo interventi tampone che hanno limitato i danni e hanno regalato qualche metro in più di spiaggia al Comune Alto Tirrenico. L'ultimo intervento risale al 2013 ma come detto ci vuole altro. A Catanzaro spetta l'ultima parola. A Catanzaro spetta l'ultima parola.